Buona giornata a tutti, chi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Bene, in questa parte della trasmissione riprendiamo un attimino il discorso dell'orrore, della distruzione dell'uomo costruito da quel criminale che va sotto il nome di Paolo di Tarso, il cui scopo era quello di impossessarsi della società civile e di distruggerla. Allora, prima di incominciare per la trasmissione voglio fare un augurio, un augurio a tutti gli amici che sono in difficoltà. Noi stiamo trasmettendo a questa radio da dieci anni, quando siamo arrivati a questa radio a trasmettere io avevo 44 anni e adesso ne ho 54. Ciò che non si pensa quando si è molto giovani, un po' ve l'ho accennato anche nella prima trasmissione, è che la vita è destinata a finire, la vita fisica sto intendo e ciò che non ci si rende conto è che quando la vita si appresta a finire raramente le persone se ne vanno via tutte insieme e tutte in un colpo, spesso se ne vanno via un po' alla volta fra tante difficoltà, tanti combattimenti e anche un po' di sofferenza tutto sommato, anche se grazie alla medicina attuale le cose vanno molto meglio e naturalmente speriamo che vanno sempre meglio. E mano a mano che passano gli anni ci si accorgono che le persone della nostra generazione, magari qualcuna che ha qualche anno di più comincia a avere dei problemi e comincia a dover pensare seriamente ad affrontare la vita in un modo che prima non c'era. Bene, naturalmente io avrei preferito essere al loro posto, cioè avrei preferito che ai microfoni di questa radio ci fossero altre persone e magari affrontarle io quei problemi, invece non è andata così, per cui posso solo fare tanti auguri a tutte le persone, a tutti i speaker di questa radio che stanno affrontando tutta una serie di problemi fisici, personali e che sono i problemi della vita. Mano a mano che il tempo va avanti, abbiamo assistito anche alcuni ascoltatori, radioascoltatori di questa radio, vecchi di 30 anni, ascoltatori fin dall'inizio, che gli anni stanno passando. E purtroppo assisteremo sempre in futuro delle cose di più, cose di più, cioè sofferenze, cioè qualcuno che mancherà. Però una cosa c'è da dire, questa radio, gli speaker di questa radio hanno sempre dato alle persone quello che loro avevano dentro, nel bene o nel male che esso sia, che si è piaciuto o che non si è piaciuto, che abbia fatto arrabbiare o che abbia fatto anche divertire. I speaker di questa radio hanno sempre dato gratuitamente ciò che loro erano e pertanto è giusto che abbiano l'affetto dei radioascoltatori che li hanno ascoltati, radioascoltatori che hanno avuto da questa radio gratuitamente ciò che non avrebbero mai avuto da nessun'altra parte. Insomma, perché penso che in tutta Italia si contano sulle punte delle dita le radio che fanno parlato e penso che siano solo mosche bianche, gli speaker che pagano di tasca propria, si pagano il viaggio, si pagano le spese, si pagano il lavoro per essere in radio, sia per soddisfare i loro bisogni e le loro passioni, sia per divertirsi e sia magari per affetto anche semplicemente per questa radio. Pertanto io faccio a tutti i migliori auguri possibili e che tutto quello che loro vogliono possa essere portato a compimento. Bene, allora cominciamo la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo, questa ultima trasmissione del 2005 che verterà su Paolo Di Tarso è in generale sull'odio per le donne e per la vita, il piacere della vita, la vita sessuale, la vita corporea, il piacere della percezione del mondo e dell'interazione con il mondo che Paolo Di Tarso odiava nel modo più assoluto. Vi ricordo, avevo già fatto il discorso, che Paolo Di Tarso era talmente pazzo, talmente fuori di testa, da pensare che stesse per arrivare alla Parusia. Lui non sarebbe mai morto e andava in giro a predicare ai cristiani che i cristiani non sarebbero mai morti perché tanto arrivava Dio, arrivava Gesù dai nuvole, il pazzo di Nazareth e li avrebbe portati col corpo in cielo. Cioè questo mentecato, questo deficiente, andava in giro a sparare queste cazzate. E ha fatto danni, ha fatto danni proprio fra le persone che avevano paura della morte, che avevano paura di morire. E allora lui prometteva la vita eterna, ma la prometteva nel senso che non sarebbero mai morti, che sarebbero stati assunti in cielo col corpo. E quei cristiani che erano morti sarebbero risorti. Il problema però per Paolo Di Tarso arrivò quando, nonostante questo affetto per il pazzo di Nazareth, i cristiani morivano. Cioè il suo delirio di immortalità fisica veniva smentito dai fatti. E qui cominciarono le defezioni alla sua comunità. Defezioni alle quali lui comincia a tentare di metterci lo zampino, finché si accorge che la filosofia platonica è più funzionale. E allora cambia la visione della vita e parla del corpo, corpo che marcisce, il corpo che contiene l'anima di Dio. Però tutta la sua vita è un assoluto disprezzo. È un assoluto disprezzo per le donne, è un assoluto disprezzo per gli inferiori, è un assoluto disprezzo per chi non si mette in ginocchio davanti a lui. E uno di questi disprezzi, uno dei maggiori, è proprio il disprezzo per la donna. Vi ho parlato nella trasmissione precedente del discorso della gerarchia emozionale, no? La gerarchia emozionale che si costruisce in antitesi alla gerarchia della legge, alla gerarchia dell'oggettività. Che cos'è la gerarchia della legge? Al di là di come noi vediamo la legge, cioè di chi emana la legge, può essere anche il monarca, può essere anche il Dio, può essere la società civile, lo Stato, il Parlamento, non è importante. Stiamo facendo un discorso sulla legge in sé, il concetto di legge in sé. Chi emana la legge, emana questa legge per dei soggetti, no? Cioè i soggetti per vivere nella società civile devono ottemperare alla legge. La legge è il metro di misura degli uomini. La legge pertanto è un oggetto, è oggettiva. Però proprio in Paolo di Tarso troviamo che Dio e che Gesù, il Patrio di Nazareth, libera gli uomini dalla legge. Cosa significa liberare gli uomini dalla legge? Significa che non devi più sottostare a una legge oggettiva, ma sei sottoposto a dei legami emozionali, a dei legami soggettivi. Cioè in pratica non hai più la regola cui attenerti, ma devi compiacere a chi può far applicare la regola che lui vuole applicare, quando la vuole applicare, come e perché vuole applicare. In pratica non più la regola sociale, la regola oggettiva, ma l'arbitrio della gerarchia. E questo concetto lo troviamo in maniera estremamente forte all'interno del cristianesimo, dove praticamente non esiste nessuna legge a cui qualcuno si vuole attenere. Abbiamo un esempio nel Patrio di Nazareth, in una delle sue parabole, in cui parla del fariseo e il pubblicano. Credo che sia in Matteo, però non me lo ricordo esattamente dove. Forse ce l'ho scritto da qualche parte. Il fariseo e il pubblicano salgono al Tempio, e mentre il fariseo ringrazia Dio, cioè ringrazia il Dio per essere riuscito ad obbedire alla legge, tu mi hai detto di non rubare e io non ho rubato, tu mi hai detto che non si deve uccidere e io non ho ucciso, tu mi hai detto che non devo bestemmiare e io non ho bestemmiato. Cioè il fariseo va orgoglioso davanti a Dio perché dice la legge che tu hai imposto agli uomini io l'ho rispettata ed è orgoglioso di questo modo di essere. Al contrario di questo, al contrario del fariseo, c'è il pubblicano che invece sale al Tempio battendosi il petto per tutti i peccati che ha fatto, io ho ucciso, ho rubato, ho bestemmiato, ho violentato la legge. Ebbene, da un lato abbiamo il fariseo che dice tu mi hai dato le leggi e io sono orgoglioso di aver obbedito alle leggi e va davanti a Dio con l'orgoglio del giusto, mentre invece il pubblicano va davanti al Dio con la disperazione della punizione per non essere riuscito ad impierare la legge. E il patto di Nazareth, Gesù di Nazareth, dice secondo voi dove andrà Dio? Dio andrà dal pubblicano. Perché Dio va dal pubblicano? Perché col pubblicano Dio è riuscito a stabilire un rapporto di forza, cioè lo può ricattare dal punto di vista emozionale. Io ti ho dato la legge, dice Dio, ma tu non dovevi rispettare la legge, tu dovevi violare la legge e nel violare la legge devi avere dei problemi di coscienza, così io ti posso ricattare. Mentre invece Dio, il Dio padrone non può ricattare il fariseo, perché il fariseo ha obbedito la legge, è stato coerente con ciò che la legge dava. Ed è importantissimo che noi riusciamo a capire questo mandato del patto di Nazareth, perché in realtà va a distruggere quello che è il sistema sociale oggettivo e va a imporre quello che oggi come oggi diventa il sistema sociale mafioso. Esisteva una regola, forse esiste anche adesso una regola, fra i politici, i avvocati, i magistrati, i preti, eccetera, che dice prenditi gli appunti, scheda quelle persone che ti interessano o che potrebbero danneggiarti, cioè in pratica segnati tutti gli episodi che possono danneggiare le persone che potrebbero danneggiarti, in modo che se le persone tentano di danneggiarti tu le puoi ricattare. In pratica, dice la regola, crea dei ricatti emozionali, dei ricatti emotivi, dei ricatti sociali nei confronti a quelle persone che ti possono danneggiare. Questa regola aurea, che fu in corso, io l'ho conosciuta negli anni, fine anni 70, metà anni 80, vigevo moltissimo fra i socialisti craxiani, ma credo che sia una regola che hanno sempre usato i cattolici, hanno sempre usato gli inquisitori, hanno sempre usato le parrocchie, tipo, so che nelle parrocchie esistono delle schedature, il libro nero di chi non è cristiano, esistono delle schedature di chi era comunista, di chi era anticattolico, esistono tutta una serie di operazioni che vengono fatte e che servivano proprio per ricattare le persone. Anche adesso in certe fabbriche esistono delle schedature degli operai, che non sono ufficialmente delle vere e proprie schedature dell'operaio, ma che sono tutta una serie di appunti che sono relativi alle prestazioni e ai comportamenti di quel singolo operaio, che possono essere usati dalla fabbrica proprio a livello di ricatto, insomma anche della singola persona, oppure per favore della carriera, oppure per bloccarla. Alcune cose sono azioni legali, cioè che attengono alla legalità, altre cose sono delle azioni legali, ma quello che è importante non è tanto se è legale o non è legale, quello che è importante è che noi sappiamo che esiste un modo, una struttura attiva nella nostra società che ha la funzione di costruire una dipendenza di ordine emozionale delle persone e questa dipendenza di ordine emozionale delle persone è una dipendenza che va contro la legge e normalmente viene fatta in queste operazioni da chi è ufficialmente in una posizione gerarchica maggiore del soggetto sottoposto. Questo tipo di cose vengono introdotte dal patto di Nazareth, fanno parte dei Vangeli, nel senso che fanno parte di chi ha la necessità di controllare le persone in quanto persone e non per un fine, per qualcosa. Per esempio, è chiaro che esistono delle schede attitudinali fra i militari per capire le attitudini, le prestazioni, le capacità del singolo militare, per cui sono schedature assolutamente legali, sono funzionali, altre invece non sono funzionali ma hanno il puro scopo di ricattare le singole persone. Per esempio, molte di queste schedature venivano fatte dai preti attraverso il confessionale, come attraverso le confessioni, praticamente prendevano giù quelle che erano le abitudini, le relazioni fra le persone, i loro atteggiamenti sessuali, i loro comportamenti, eccetera. E tutto questo è un comportamento assolutamente, questo è anche illegale oltretutto, ed è finalizzato proprio alla costruzione della dipendenza emotiva. Perché ci sia una costruzione della dipendenza emotiva, ci deve essere una gerarchia che venga riconosciuta, ma della gerarchia emozionale ne parleremo in un altro momento. Quello che ci interessa di Paolo Di Tarso è che per costruire una gerarchia emozionale la prima cosa che deve essere fatta da chi la vuole fare è dividere in due il sistema sociale. Si piglia un sistema sociale che è fatto da X persone, 10.000 persone che appartengono a un insieme e per costruire la gerarchia la prima cosa che si fa è dividerlo. Dividerlo in due, dividerlo in quattro, dividerlo in otto, dividerlo in sedici, dividerlo in trentadue, dividerlo in sessantaquattro. Quando un sistema sociale viene diviso a pezzi e viene segato, poi al suo interno si costruisce la gerarchia. Naturalmente se noi pensiamo a un sistema sociale di ordine planetario, naturalmente qui nasce il razzismo, nasce l'odio per le altre culture, nascono le guerre e nascono tutto ciò che fa comodo a chi controlla le persone. Perché non sempre chi vi dice facciamo guerra a tizio o a caio, fa effettivamente guerra a tizio o a caio. Spesso la fa contro di voi. Per cui rifletteteci bene su queste cose. Ed è il discorso che noi facciamo stasera, proprio il disprezzo per la donna e il disprezzo per il piacere. Paolo di Tarso, nel suo progetto, non è un vero e proprio progetto come noi lo consideriamo all'interno della ragione, ma è un progetto emozionale, la prima cosa che fa è eliminare la donna. Perché Paolo di Tarso vuole eliminare la donna? Semplicemente perché Paolo di Tarso è impotente. E questo è il primo elemento fondamentale da capire. Io non so se Paolo di Tarso avesse pratiche omosessuali. Però sa di fatto che l'eliminazione della donna è l'eliminazione di un concorrente. Un concorrente sessuale naturalmente perché vi ricordo che Paolo di Tarso può fare solo una cosa. Concepire le relazioni fra le persone come relazioni di sesso e relazioni corporee. Lo vedremo quando faremo il matrimonio. Non riesce a concepire che le persone stiano insieme per cento motivi, non solo per fare sesso. E questa è una cosa inconcepibile per Paolo di Tarso. Ma non è di questo che ne parliamo. Comunque sta di fatto che il motivo per far fuori la donna, cioè per mettere la donna nel gradino più basso della gerarchia sociale è perché la donna, per lui, per Paolo di Tarso, è un concorrente da eliminare. Per cui da sottomettere e da schiavizzare. E tutta quella che è stata la storia della Chiesa Cattolica nel proseguo, cioè dall'esternazione paoliniane fino ad oggi, è sempre stata attività per eliminare un concorrente sociale, per eliminare una delle maggiori forze che esisteva all'interno dei sistemi sociali. Se gli esseri umani maschili, se gli uomini, oggi come oggi, sono deboli all'interno del sistema sociale, è perché hanno accettato che la Chiesa Cattolica, dopo, sopravfacessero la donna e la riducessero ad oggetto di servizio. Per cui la umiliassero, la torturassero, la ammazzassero, poi nel corso della storia ne vediamo di tutti i tipi, però questo non è l'oggetto della trasmissione. Per cui proviamo un po' ad analizzare il disprezzo per la donna e per il piacere per la vita. Dice Paolo di Tarso, Voi tutti siete figli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Infatti, quanti siete stati battizzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti siete una sola persona in Gesù Cristo. Galati 3, 28 La libertà e l'uguaglianza dinanzi a Dio è la premessa per la schiavitù e la sottomissione nella situazione attuale. Il concetto di schiavitù sociale, voluto da Dio, deve necessariamente avere come premessa la promessa dell'uguaglianza quale premio dell'accettazione della schiavitù da parte dello schiavo nel momento presente. Le due cose sono inalienabili. Per affermare che Dio ha stabilito il ruolo dello schiavo e che quel ruolo lo ha assegnato proprio a te, a te che ascolti, è necessario attribuire a quel ruolo una corsia preferenziale nell'acquisizione dei meriti nei confronti di chi quel ruolo ha imposto Dio. Lo schiavo deve essere contento di essere schiavo perché tanto più accetta la sofferenza in quanto schiavo, tanti più meriti acquista agli occhi di Dio e dei premi futuri. Da questa premessa discendono le regole morali applicando le quali si possono acquisire i meriti. Ed è così che una persona sessualmente impotente come Paolo di Tarso soddisfa le proprie pulsioni sesso-emotive mediante il dominio e la costruzione e l'imposizione di una struttura gerarchica morale al cui centro sta la sua condizione soggettiva di impotenza sessuale. Lui, sessualmente impotente, da persone marginate in un mondo in cui la sessualità degli esseri umani è uno dei momenti centrali della loro esistenza, vedi le processioni colpene, i miti sessuali, i riti orgiastici, diventa il centro del nuovo modello di società che ha come punto di riferimento l'impotenza sessuale da esaltare e da imporre a tutta la società civile. Tutto il sistema religioso di Paolo di Tarso si articola nel farsi e un ucchi per il regno dei cieli. Dice Paolo di Tarso Vi dico questo per condiscendenza, non per farvenne un comando, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ognuno ha da Dio il suo dono particolare, chi un modo, chi un altro. Ai celebi e alle vedove io dico, è bene per loro se rimangono come sono io, ma se non si sentono di vivere continenti, si sposino, è meglio sposarsi che bruciare. 1 Corinti 7, 6, 9 Da qui la strategia di Paolo di Tarso, fatta proprio dalla Chiesa Cattolica, consiste nella criminalizzazione della sessualità femminile. La sessualità femminile cessa di essere la forza della riproduzione della natura, la strategia emotiva della natura per perpetuare se stessa, ma diventa delitto di concupiscenza. Ciò che è la tensione di libertà dell'essere natura, espressa mediante Demetra, in tutti gli esseri all'interno delle manifestazioni della vita, brama, bramosia, voglia, carnalità, desiderio, sensualità, sessualità, viene racchiusa entro feroce sbarre morali e cortocircuitata nel suo aspetto perverso. L'aspetto perverso delle pulsioni di libertà sono le sue manifestazioni finalizzate alla propria azione e all'assoggettamento. Così le espressioni della psiche e della sessualità umana si manifestano mediante il possesso, la brama di possesso, la voglia di possedere, la brama di distruggere le rappresentazioni sessuali degli altri, la negazione della carnalità degli altri al fine di distruggerne la sessualità e la sensualità. Così Paolo di Tarso, il San Paolo dei Cristiani, trasformano la società umana in un campo di starminio, dove l'oggetto che viene distrutto è la struttura psichico-emotiva degli esseri umani, al fine di trasformarli in bestiami, docile ed obbedienti. Nel campo di starminio c'è la gerarchia, una gerarchia che è assolutamente inammovibile e il cui scopo è la distruzione dell'essere umano. Questa gerarchia viene stabilita dal grado più alto, il potere assoluto, ad un grado più basso, ma deve essere il rango più basso che deve rendere omaggio al grado più alto, o subito sopra, affinché la gerarchia si cali nel cuore degli esseri umani. Dice Paolo di Tarso, voglio tuttavia che sappiate questo, Cristo è il capo di ogni uomo, l'uomo è capo della donna e Dio è capo di Cristo. Ogni uomo che prega e profetizza capo coperto disonora il suo capo, al contrario ogni donna che prega e profetizza capo scoperto disonora la sua testa perché è come se fosse rasa. Se una donna dunque non vuole portare il velo si faccia anche tagliare i capelli, ma se è vergognoso per una donna essere rasata si copra col velo. L'uomo invece non deve coprirsi la testa perché immagine e gloria di Dio. Mentre la donna è gloria dell'uomo, infatti l'uomo non ebbe origine dalla donna, ma se fu la donna ad essere tratta dall'uomo ne fu creato l'uomo per la donna, bensì la donna per l'uomo. Quindi la donna deve portare sul capo il segno della podestà per riguardo agli angeli. Corinti 1 Corinti 11 3 10 Una parentesi personale di questo. C'è un disgraziato che lavora con me e che ama raccontare che suo nonno, un comunista, un comunista di quelli duri e puri, quando passava davanti alla chiesa si levava il cappello. E questo è Paolo di Tarso, che davanti al padrone l'uomo si deve levare il cappello. Se qualcuno ha memoria di qualche anno passato quando gli uomini di una certa età avevano il cappello, che avevano l'abitudine di levarsi il cappello per omaggiare qualcuno, no? Questo lo trovate in Paolo di Tarso, è un'imposizione criminale voluta proprio per sottomettere le persone, per costringere le persone a stare in ginocchio davanti al soggetto, non alla legge. E quando un individuo ha in ginocchio davanti al soggetto non è più in grado di rivendicare ciò che la legge gli impone di rivendicare. Perché la legge non è fatta per imporre solo a qualcuno, ma anche per dire questi sono i tuoi diritti. Queste cose che sono i tuoi diritti tu li devi rivendicare. Deve essere uomo davanti alla vita, non servo schiavo. Ebbene, questo qua del cappello, se qualcuno di voi ha una persona di una certa età, se la ricorderà, perché è una cosa veramente vile, vigliaca. Cioè praticamente ciò che veniva sottomesso era la struttura psichica della persona. E nei discorsi che ho fatto oggi della gerarchia emotiva ricorda questo. Paolo di Tarso è l'inventore dei campi di sterminio, il cui epilogo lo avremo forse nel XX secolo, con i campi di sterminio costruiti e fatti funzionari dai cristiani, al fine di macellare zingari, atei, testimoni di Geova, omosessuali, e paradosso della storia, gli inventori della super razza, che gode della promessa del Dio padrone di sterminare tutti gli altri, gli ebrei. C'è sempre stato lo spettacolo triste quando i contadini e le persone di basso rango si toglievano il cappello al passaggio del padrone o del signore. Si toglievano il cappello quando andavano in chiesa, quale atto di sottomissione al prete, quando il prete cattolico passava per strada. Il signore e il prete cattolico si compiacevano della deferenza, si compiacevano di quanto erano stupidi questi bifolchi, che avevano rinunciato ad essere persone per accettare il loro ruolo di bestiame sacrificale. Questa gente che si toglie il cappello, come poteva sfogare l'umiliazione che subiva? Sulla bestia che possedevano, sulla donna, la donna che deve rimanere velata. Da dove pensate che i musulmani abbiano imparato a mettere il velo alle donne, se non imitando i cristiani alla corte di Costantinopoli? La donna che doveva sempre rimanere col capo coperto, in segno di auto-umiliazione, la donna ridotta a bestiame da lavoro o da riproduzione, che non deve aver piacere nella relazione sessuale, né diventare compagna e protagonista della vita nella società. Tanto più si distruggerà e si umilierà la parte femminile della società, e tanto più debole sarà la parte maschile della società stessa. Pensa, dice Paolo di Tarso, tu ti scopri la testa che sei la gloria di Dio davanti al tuo padrone, che rappresenta Dio, e puoi umiliare la donna che è nata da te. Come in tutte le chiese dei santi, dice Paolo di Tarso, come in tutte le chiese dei santi, le donne nelle riunioni tacciano, perché non è stata affidata a loro la missione di parlare, ma stiano sottomesse, come dice anche la legge, se vogliono essere istruite in qualche cosa. Interroghino i loro mariti a casa, perché è indecoroso che una donna parli un'assemblea. forse è uscita da voi la parola di Dio, o è giunta soltanto a voi, se uno crede di essere profeta o avere i doni dello spirito, riconosca che quanto scrivo è un ordine del Signore, se qualcuno non lo riconosce, non sarà riconosciuto. Allora, che le donne tacciano e se vogliono sapere qualcosa lo chiedono i loro mariti in casa, è un ordine di Dio dato a Paolo. Chiaro questo? Corinti 1 Corinti 14 34 38 Si scontrano in Paolo di Tarso due esigenze, una davanti al Dio padrone e l'altra nelle sue necessità di dominio e di comando. Un giorno tu sarai uguale davanti al Dio padrone, oggi sii sottomesso e accetta con rassegnazione la tua condizione, che è manifestazione del Dio padrone. Da un lato, il dominio degli uomini che passa attraverso la distruzione della rappresentazione sociale delle donne. Dall'altro lato, l'alleanza di Paolo con gli uomini al fine di ottenere la sottomissione delle donne che gli consente di sottomettere gli uomini. L'oggetto della distruzione del dominio di Paolo di Tarso è la società civile. Per farlo, deve impedire che gli uomini rivendichino il loro ruolo sociale ed ottiene il risultato deviando la rivendicazione degli uomini contro le donne. La donna, per Paolo di Tarso, è il nemico dell'uomo. L'affermazione di Paolo di Tarso è ottenuta mediante la menzogna. Paolo di Tarso afferma che la donna deriva dall'uomo, mentre oggi noi sappiamo che è esattamente il contrario. L'essere umano maschile è un essere umano femminile mancato. Mi fermo un attimino per precisare. Oggi pomeriggio, nella prima trasmissione, vi ho detto che Einstein fece delle affermazioni sulla relatività. Bastava ad Einstein dimostrare la relatività e Einstein l'ha dimostrata e dopo la scienza, nel corso di quei vari strumenti, ha dimostrato che tutta una serie di cose sono varie e poi ha realizzato delle cose pratiche. Altri geni sono arrivati che non avevano la conoscenza della scienza. Per esempio Darwin, la teoria dell'evoluzione formulata da Darwin, ha incontrato la prova anche della genetica di questi ultimi tempi. Freud, il discorso del subconscio, dell'inconscio, ha portato a sviluppare la psicanalisi che oggi come oggi con le nuove ricerche che ci sono del cervello, la struttura neuronale, ne ha amplificato il valore. Marx stesso, per esempio, per quanto riguarda la struttura economica, ci sono nella storia dei geni, cioè dei personaggi, che hanno saputo precorrere i tempi pur non avendo gli strumenti necessari che secoli dopo questi strumenti sono avvenuti. Tanto fa un esempio più antico, il Democrito, la sua teoria atomica, è una pietra migliare nella storia del pensiero umano e sto parlando del pensiero della ragione, non sto parlando di altre cose. Pertanto, se una religione fa delle affermazioni che queste vengono trovate valide nel corso della vita, nel corso della storia, dell'esistenza, della trasformazione dell'uomo, della scienza, chiaramente questa viene riaffermata, ma quando si fanno delle affermazioni che sono in contrasto con la realtà, significa che si fanno delle affermazioni fuori di testa. E questa di Paolo, che le donne derivano dall'uomo, è un'affermazione da fuori di testa, cioè è un'affermazione letteralmente demenziale, cretina, ed è stato dimostrato che l'essere umano maschile non è altro che un essere umano femminile è mancato, con tutte le contraddizioni che questo avviene, cioè con tutte anche le tendenze sessuali che questo avviene, che va dall'omosessualità, che va da tendenze strane, cioè anche tutta una serie di condizioni, che è normale nella vita, perché sono proprio i nostri difetti che ci dicono che siamo figli della natura, non la nostra perfezione, solo i pazzi possono credere di essere perfetti. pertanto, l'affermazione di polo di tasso è un'affermazione da fuori di testa, questo è quello che mi interessava sottolineare. Il maschile è una variazione sul femminile che rappresenta l'elemento base della vita nella natura. Infatti, nelle antiche religioni la natura era giunone, non Giove o Zeus. Negli antichi culti misterici, la diversità fra uomo e donna era data dal loro sesso, ma non era il loro sesso che determinava una diversità sociale all'interno del culto. E questo ve l'ho già detto, ma ve lo rifaccio. Leggiamo ad esempio il culto misterico di Andania, istituito a Tebeda e Paminonda. Quando tutto fu pronto, le vittime erano fornite dagli Arcadi e Paminonda e i Tebani sacrificarono a Dioniso e ad Apollo e Smeneo. Nel modo consueto, gli Argivi a Era Argiva e a Zeus Nemeo, i Messeni a Zeus e i Tomata e ai Dioscuri e i loro sacerdoti alle grandi idee e a Caucone. Tutti insieme invitarono poi anche gli eroi a tornare a coabitare con loro, soprattutto Messene, figlia di Triopa e dopo di lei Eurito a Fareo con i suoi figli fra gli Eraclidi, Cresfonte ed Epito, Pausania, tratto dalle religioni e misteri a cura di Paolo Scarpa edizione Lorenzo Valla. Come si può leggere, non esiste nessuna proibizione di ordine dogmatico religioso alle donne di partecipare al rito. Leggiamo altro esempio nel culto misterico di Iside, uno dei culti più diffusi a quell'epoca in tutto il Mediterraneo. Che Osiride sia identico a Dioniso, chi dovrebbe saperlo meglio di te Clea, tu che guidi le tiadi di Delfi e sei stata consacrata dal padre e dalla madre alle cerimonie del culto di Osiride, Plutarco, tratto dalle religioni e misteri sempre come sopra. E come si vede, non è che la donna sia separata e dei seguaci del culto di Iside, cosa ne pensavano allora i cristiani? È interessante sapere che cosa ne scrive lo scrittore cristiano Minuccio Felice nel secondo terzo secolo dopo Cristo di origine africana. che esercitò il lavoro di avvocato a Cirta e si trasferì poi a Roma e si convertì al cristianesimo. Pua! Che stupefacente stoltezza, che incredibile temerarietà! Arrivano a non curarsi delle torture di questa vita mentre paventano gli ipotetici castighi nel di là e mentre temono di morire dopo la morte non temono intanto di morire al presente. Così in loro il terrore dei tormenti di quaggiù è lenito da una fallace speranza e una risurrezione confortatrice dopo la morte sempre tratto dalla religione misteri. Questo è quanto ha capito Minuccio Felice della religione misterica di Iside. A quei tempi Paolo di Tarso non era stato ancora acquisito come momento centrale nella costruzione del cristianesimo e l'odio per l'essere umano femminile non era ancora stato fatto proprio del tutto dal cristianesimo. E che dire dei riti misterici di Dioniso per quanto riguarda il ruolo delle donne leggiamo che cosa ci racconta Pausania L'altro passo in cui Omero ha definito Panopeo luogo dalle belle danze non sono riuscito a spiegarmelo prima di essere stato istruito da quelle che gli atteniesi chiamano tiadi. Le tiadi sono donne dell'attica che ogni anno assieme alle donne di Delfi si recano sul Parnaso a celebrare i sacri riti in onore di Dioniso e costume che queste tiadi intrecino delle danze lungo la strada che parte da Atene in altri luoghi e a Panopeo e in Omero l'epiteto assegnato a Panopeo sembra alludere la danza delle tiadi e ancora sempre da Pausania sostengono pure che questa tia fosse la prima a essere consacrata sacerdotessa di Dioniso e la prima ad aver celebrato i sacri riti in onore del Dio e nel culto mistero di Eleusin qual era la relazione fra uomo e donna leggiamo in Eschine contro cetesi fonte la legge impone che i sacerdoti e le sacerdotesse debbano rendere conto del proprio operato sia tutti insieme che ciascuno per la sua parte individualmente anche se si limitano soltanto a ricevere offerte sacrificali e allevare preghiera agli dei a vostro vantaggio e ciò vale non solo per gli individui ma pure per le famiglie gentilizie come gli eumolpidi i cerici e tutti gli altri sempre tratto dalla regione dei misteri il fine ultimo di Paolo di Tarso dunque è la distruzione della vita infatti lui sta aspettando la parousia sta aspettando la fine del mondo l'arrivo del suo pazzo padrone sulle nuvole mentre nelle antiche religioni c'era un'interazione completa fra piacere dell'esistenza e individuo in Paolo di Tarso giunge l'atto finale di un processo di negazione del corpo e del piacere fisico in molte strutture filosofiche precedenti la continenza e la negazione del corpo avevano un loro ruolo fra i cinici c'erano parecchi predicatori cinici a Gerusalemme e nelle città vicine fra i neoplatonici e ancora prima sotto molti aspetti gli stessi pitagorici ma solo in Paolo di Tarso la negazione della sessualità diventa arma militare per il controllo sociale l'odio per la sessualità della Chiesa Cattolica sarà imposto militarmente a chi sarà costretto a togliersi il cappello davanti al padrone per conto la Chiesa Cattolica praticherà la perversione del possesso dei corpi di chi non si può difendere per 1600 anni fino al giorno d'oggi con le centinaia di processi per pedofilia e pederastia nei quali centinaia di preti cattolici sono imputati nella Costituzione della Repubblica Italiana adottata nel 1948 e tuttora in vigore si legge articolo 3 comma 1 tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso di razza di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali comma 2 è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza e la libertà dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese questo articolo 3 comma 1 e 2 rispetto al voglio tuttavia che sappiate questo Cristo è il capo di ogni uomo l'uomo è il capo della donna e Dio è il capo di Cristo ogni uomo che prega e profetizza a capo coperto disonora il suo capo al contrario ogni donna che prega e profetizza a capo scoperto disonora la sua testa è in assoluta contraddizione cioè praticamente da un lato abbiamo l'orrore criminale del cristianesimo e dall'altro abbiamo la costituzione della Repubblica Italiana che spinge verso l'uguaglianza e la parità nella costituzione europea adottata nel 2005 dall'Italia si legge articolo 2.23 parità tra uomini e donne la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi compreso in materia di occupazione di lavoro e di retribuzione il principio della parità non osta al mantenimento all'aduzione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato pertanto prendetevi i principi cattolici e prendetevi i principi costituzionali e vedrete che sono in guerra fra di loro o accettate di sottomettervi alla struttura emozionale che viene praticata dai principi cattolici o accettate l'uguaglianza della legge e è importantissimo questo perché altrimenti non riusciamo a comprendere con quanto fatica la società civile ha fatto per venire fuori da preposizioni da affermazioni da imperativi morali di un criminale di un delinquente come Paolo di Tarso appare evidente come la società civile per essere tale deve darsi dei principi che nulla hanno a che fare con l'orrore cristiano l'orrore della sottomissione che distrugge la dignità degli esseri umani se nelle varie società antiche troviamo generalmente il ruolo della donna subordinato a quello dell'uomo non lo troviamo mai assoggettato sia a Babilonia che in Egitto che a Roma il ruolo della donna era rilevante anche sul piano sociale e comunque non era mai sottoposta a una sottomissione psicoemozionale che nemmeno masse o criminalizzasse la natura stessa di essere donna a questo proposito visto che vi cito le antiche le antiche civiltà c'è un'affermazione che fa appena il 165 Karl Dresner e dice come dimostra il celebre codice di Hammurabi nella Babilonia del 2000 a.C. la donna godeva di un prestigio superiore a quello assegnato le 1500 anni dopo dal giudeismo vetro-tastramentale nel codice di Hammurabi per esempio il ripudio facile veniva combattuto mentre nel Vecchio Testamento viene addirittura considerato come una punizione dover mantenere una moglie vita naturale durante e un'altra affermazione sempre sul codice di Hammurabi che fa a proposito della tortura dell'uso della tortura vediamo un attimino se riesco a trovarlo dunque 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 vediamo un attimino se riesco no non riesco a trovarlo eccolo qua sì 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 dunque se si tiene conto che il re babilonese Hammurabi all'incirca nel 2000 a.C. nelle sue leggi minacciava con la morte e la confisca del patrimonio chiunque avesse accusato falsamente qualcuno di stregoneria al contrario invece di come i cattolici usano proprio la tortura per accusare le persone di stregoneria cioè abbiamo un'inversione totale di quello che è fra le antiche religioni e il cattolicesimo cioè il cattolicesimo arriva a portare morte e distruzione fra gli uomini se nei vari societanti che troviamo generalmente il ruolo della donna l'impotenza sessuale di Paolo di Tarso è stata elevata da Chiesa Cattolica a modello sociale quel modello è stato imposto mediante la violenza le torture e il genocidio quel modello ha espresso la moralità della Chiesa Cattolica che indicava a disprezzo tutte le persone che non si adeguavano a quel modello finendo per costruire odio sociale gli esseri umani si sono ribellati a quel modello e a quell'odio sociale che la Chiesa Cattolica imponeva loro ma i cattolici non li hanno rimossi quei principi quei principi sono sempre il fondamento della loro dottrina anche oggi Ratzinger usando le relazioni mafiose che intrattiene con politici complici svolge una feroce attività di disarticolazione del detato costituzionale al fine di imporre ancora quella morale costruire fobie e disagio sociale negli individui al fine di danneggiare la società civile oggi come oggi la guerra che Ratzinger le ultime dichiarazioni sono di ieri riguardanti all'embrione cioè solo un criminale può fare quelle affermazioni ed è vergognoso che i giornali pubblicano quelle affermazioni senza commentarle senza controinformazioni cioè siamo a livello di mafia istituzionalizzata oggi come oggi la guerra che Ratzinger tende a riportare la società civile camuffata da dire la propria opinione perché poi quando gli attacchi dicono ma noi diciamo solo la nostra opinione contro le donne contro l'aborto contro la sperimentazione sugli umbrioni contro l'eutanasia contro le coppie di fatto altra non è che la riaffermazione di quei principi di Paolo di Tarso il cui fine fu la distruzione dell'antica civiltà per Ratzinger e soci l'obiettivo è quello di distruggere le società moderne ripristinando i campi di starminio e tra i quali racchiudere le emozioni umane e il respiro di libertà dei popoli e i politici che dovrebbero riaffermare il dettato costituzionale vanno da Ratzinger per elemosinare dei voti c'era in una commedia fatta dai Broncovitz a Milieto si chiamava il re che era sul punto di morire avvelenato per una congiura di palazzo dalla moglie per una congiura di palazzo a un certo punto diceva ma noi fa in fondo si abbiamo ammazzato abbiamo sterminato abbiamo fatto le nostre porcate ma in fondo noi cosa volevamo volevamo un paio di scarpe comode inglesi delle belle scarpe di quei inglesi in fondo distruggere i popoli ammazzare le persone era solo per soddisfare dei desideri meschini dei squallori essere individui miserabili che creano un infinito numero di problemi alle persone che affrontano la vita solo per soddisfare degli interessi meschini e miserabili e della vita non viene fotte niente a nessuno non vi preoccupate fra poco con il Paolo di Tarso arriveremo anche a parlare di come si insegna la perversione sessuale nei seminari cattolici visto che ci sono un paio di miliardi di prezzi sotto processo per pederastia e pedofilia andremo avanti con gli argomenti questo è il primo che vi ho fatto oggi è il primo che ho finito che ho messo anche in internet e potete trovare un po' tutto diciamo così i discorsi che abbiamo fatti oggi visto che internet si presta proprio a diffondere almeno per il momento quello che è il pensiero degli uomini e la vita naturalmente è una manifestazione di Ercole è una manifestazione che va verso l'infinito bene io chiudo qui la trasmissione magia stragoneria paganesimo e vi ricordo una cosetta vi ricordo che fra poco è l'anno nuovo e vi faccio tutti quanti auguri per tutto quello che vi può arrivare intanto continuate ad onorare gli dei come Saturno mangiando bevendo giocando divertendomi onorate opi facendo sì che i vostri pasti siano abbondanti onorate strena facendo regali e onorate Giano aprendo le porte del futuro che vi viene incontro provo un'ultima telefonata velocissima pronta ciao dimmi veloce come diciamo mi scusi ah per come come diciamo diciamo no sì guarda non mi interessa Claudio Simeoni dimmi ah Claudio ciao niente tanti auguri grazie volevo fare una riflessione veloce veloce perché sei veloce ok sì sì non è stupido togliersi il cappello è soltanto dire non voglio litigare con te voglio stare in pace con i miei pensieri come un cane mostro il petto e dico mi arrendo sì voglio vivere o morire sì è un comportamento da cani nel modo più dispregiativo che sia ridurre le persone a cani ma in modo dispregiativo non in modo nobile è questo ma non ho avviso tanto questo va bene da un'altra cosa Claudio velocissimo grazie voglio parlarti anche della prostituzione sacra cosa che impensi ne parleremo ne parleremo anche perché non ce ne frega assolutamente niente ma guarda che quasi tutte le grandi divinità avevano questo soltanto che questo apparteneva a una struttura sociale non era l'ordine del Dio era il modo con cui la società viveva e non c'era non c'era il controllo sessuale non c'era la coercizione emozionale attraverso il sesso non c'era la sottomissione sessuale per cui non c'erano quelle prerogative che ha imposto il cattolicesimo con l'abominio ma si ma non mi interessa il problema è stare un po' suonando da quello che possiamo parlare di tutto quel che ti vuole però tutto va inquadrato all'interno dell'epoca della cultura in cui viene fatto e con le prerogative da quando è arrivato il cristianesimo ha cambiato le carte in tavola ti assicuro che a Rom a Pompei c'erano i cazzi disegnati per terra che insegnavano dove erano i bordelli si chiamano lupanari perché le donne urulavano per chiamare le persone cioè quello che voglio dirti è che ciò che era nelle società antiche il cristianesimo lo ha depravato all'infinito un'altra cosa bella che lesevo devo chiuderti perché c'è Stefano qua dietro ci sentiamo giovedì prossimo grazie ok grazie a te ciao ciao io ringrazio tutti vi do appuntamento per giovedì prossimo scusa Stefano ci sentiamo ciao 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 subito subito via